Ciao Ettore, che piacere vederti qua a Parigi. Ciao Paola. Ciao. Allora ti ho fatto un po' da cronista in questi giorni. Moltissimo. Facciamo che parli cronista. Ma perché? Ma siamo qua. Hai voglia. Ma non vorrei fare. Certo. Senti, allora dicevo a Eugè che la bicicletta è mitica, epica e autotica. In questi giorni che sei passata in giro per l'Europa, con cosa hai incontrato, con chi ti sei relazionata, hai cambiato questa prospettiva spazio-tempo. Sicuramente concordo con il sociologo che la bicicletta è libertà, incontri, emozione, dico sempre che ti fa anche tornare bambino. E soprattutto quando sei in bicicletta impari a stare al mondo e impari a rispettare il mondo. Quindi quello che ho trovato in questa lunga attraversata di 2.700 km da El City fino qui a Parigi. Mi ha rifatto capire quanto sia importante cambiare il modo di spostarsi. Soprattutto di fare i piccoli spostamenti nelle città tra un paese e l'altro. Il back to work, i ragazzi che vanno a scuola, quindi ho cercato di cogliere il più possibile quello che stanno facendo gli altri paesi e portarlo da noi che da questo punto di vista siamo ancora molto indietro. Sulla mobilità cosa hai trovato di interessante nelle città che incontriamo? Ho trovato interessante ad esempio il fatto che in Estonia a Tallinn i mezzi pubblici siano completamente gratuiti che è una cosa che secondo me è molto utile soprattutto per l'intermodalità e quindi permettere alle persone di usare i mezzi abbinati alla bicicletta e a spostarsi a piedi. Ho trovato tantissime piste ciclabili soprattutto in Germania e in Orlanda e anche i percorsi ciclabili. Quindi ad esempio ho cercato di seguire l'Eurobero nelle Repubbliche Baltiche e in Polonia che sono questi lunghi percorsi ciclabili che uniscono gli stati. Ho trovato che a El City ad esempio e in diversi posti delle Repubbliche Baltiche che stanno riducendo tantissimi parcheggi, riducendo i parcheggi incentivi le persone a spostarsi in un altro modo. Stanno mettendo anche degli ostacoli sulla strada per ridurre la velocità e tante strade a km orari, a 30 km orari. E rispetto alle situazioni di guerra che ci sono nei posti vicino a dove sei passata, li hai sentite? È una cosa che è pesata? Diciamo che ho percepito la situazione anche se non direttamente perché io comunque sono passata veloce in bicicletta però nel momento in cui ho incontrato alcune persone, soprattutto nei Paesi Baltici, alcuni inviati corrispondenti RAI, mi hanno raccontato quello che sta succedendo. Effettivamente loro essendo così vicini alla Russia e all'Ucraina hanno subito e stanno subendo tutto quello che succede. Quindi si percepisce un reale pericolo, ho visto tanti mezzi militari passare, ho incontrato un ragazzo a Vilnius che mi ha raccontato che sono molto italiano che vive a Vilnius a 15 anni e che è sofferto volontario dell'esercito lituano e quindi questa cosa a noi sembra tanto distante ma in realtà è molto più vicina di quello che pensiamo ed è assoluto che non se ne parli più perché adesso ci stessa concentrazione su altre zone di guerra ma quando invece è super attuale e quando questo ragazzo mi ha raccontato che sua moglie medico ha visto arrivare i bambini e poi Vilnius aveva strappato i denti, ha violentato la mamma, ha ucciso la madre, ha ucciso il padre sono cose neanche concepibili e quando te lo senti raccontare in modo diretto di una persona che ha visto quello non riesci a dare un significato a cosa sta succedendo. Quello che fa Paola sono veri e propri viaggi in cui si relaziona con quello che incontra e porta avanti delle battaglie che ne sono giuste e servono a tutti quanti noi. Quindi grazie Paola. Grazie a te Ettere, grazie a tutti, un bacione e viva la cucina.